Voi sempre dei giocatori, sempre. Sempre il gitario, vete a me giugasuna, vete a me giugasuna, vete a me giugasuna. Io ho già fatto 35 anni, il mister non ho bisogno ne di consegne. Io vorrei che le soddisfazioni le prendeste tutti voi. Io vorrei che le soddisfazioni le prendeste tutti voi. Io non vedo sempre più di noi, non vedo sempre più. Come abbiamo già quando siamo raggiunti, ma poi è un po' di raggiungo. Ma poi, ovviamente, sempre sempre è per una ragione. Ma non è sempre mai pensato, ma è qualcosa che non è sempre più. Ma è qualcosa che abbiamo non controllo, e che è la mia destina. Ma no more risposta, resta la mia head e vai a dormire. Ma un giorno, un giorno, non è un po' di raggiungo. Ora, un po' di raggiungo, non ti chiedi. È tutto tutto, 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 tutto. È tutto tutto, 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 tutto. I told you that he's here to hold you through the night